Riparte l'Autumn Course 2015, progetto che giunge quest'anno alla 21esima edizione e vede la partecipazione di 20 studenti provenienti dagli atenei di diversi paesi d'Europa. Dal 2 al 10 ottobre i ragazzi parteciperanno ad un corso sulla progettazione navale per studiare lo scafo e i materiali utilizzati. A promuoverlo è l'associazione studentesca europea BEST, fondata nel 1988 per coinvolgere gli studenti di discipline tecnico-scientifiche in programmi di studio all'estero. A Napoli l'associazione conta sulla partecipazione volontaria di 30 membri della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Federico II, che anche quest'anno ospita gli studenti europei in città. Durante tutto l'arco della settimana avranno modo di scoprire, grazie al Dipartimento di Ingegneria Industriale Sezione Navale, le nuove novità e le innovazioni nel campo tecnologico dell'ingegneria navale. Ma ovviamente il corso non si durerà solamente alla parte accademica, infatti sarà presente anche una forte attività territoriale per scoprire tutte le bellezze del territorio napoletano. Uno scambio internazionale che va a valorizzare l'eccellenza e la qualità dei percorsi ingegneristici, scientifici, nello specifico nautici, della città di Napoli. Un gruppo di studenti animano oggi l'associazione BEST, che è di dimensione internazionale, e quindi il Comune di Napoli è partner pieno nel consentire a questi ragazzi di poter implementare le proprie conoscenze, accogliendo tanti altri studenti che vengono da altri paesi dell'Unione Europea a Napoli e per più di una settimana saranno qui non soltanto all'insegna della formazione, ma soprattutto dell'arricchimento del grande capitale scientifico accademico della città di Napoli attraverso l'incontro con le Università e con il Comune di Napoli.